Un altro commento che ci chiede come ha imparato l'italiano. Penso che un giorno dovremo fare una puntata nella quale spieghiamo almeno come è fatto a imparare l'italiano. Quindi a questo punto in questa puntata parleremo di come Katie ha imparato l'italiano. E forse una cosa ancora più importante parleremo anche di come non ho imparato l'italiano. E alla fine sei consigli per aiutarvi a imparare a parlare l'italiano. Inizierei subito da perché hai imparato l'italiano? Ah, questa è un'altra storia. Ah, ok. La posso raccontare velocemente? Bene, breve, breve. Giusto perché visto che parliamo di come hai imparato l'italiano, giustamente la prima domanda è ma perché l'italiano? Innanzitutto devo chiedere scusa all'italia e agli italiani perché l'italiano non era la mia prima scelta. Io volevo studiare lo spagnolo. Come lo spagnolo? All'università potevo studiare una lingua e come molte persone mi sono detta lo spagnolo, perché no? È una lingua molto parlata, quindi pensavo che sarebbe stata utile per viaggiare. Ma... Un saluto a Easy Spanish. Ciao ragazzi. Ciao a Easy Spanish. Per iscriversi ai corsi di lingua era stato organizzato un evento. Io la sera prima ero uscita con i miei amici e sono andata a letto molto tardi, mi sono svegliata molto tardi e quando sono arrivata c'era una fila lunghissima e quando sono arrivata davanti non c'erano più posti. Mi sono guardata intorno e ho scelto l'italiano. Hai visto quel tipo, quel tavolino in cui c'era l'italiano e non c'era nessuno, niente fila e la persona lì così. Sì, ma meno male possiamo dire perché se no, vabbè, non sarei qui. Un inizio un po' così, però poi mi sono innamorata dell'Italia e degli italiani, quindi perdonatemi tutti. Vabbè. Ora vi voglio bene. Ma prima no. Vabbè. Andiamo avanti. Katie, ma non avevi detto che dovevi studiare l'italiano? Sì, lo sto studiando. E come? Sto ascoltando l'audio lento di questa puntata. Ah, fantastico. Sì, nella nostra comunità Patreon ci sono un sacco di materiali per imparare l'italiano come esercizi, audio lento come questo e video senza sottotitoli. E come faccio ad avere questo materiale? Puoi cliccare il link in descrizione. Grazie, vado, eh. Ciao. Però, e ora arriviamo a come ho imparato l'italiano. In questo corso non ho imparato praticamente niente. Prattissimo. Sono stata l'ultima della classe e addirittura mi hanno mandato una lettera a casa dicendomi che se non iniziassi a studiare e venire di più alle lezioni mi avrebbero cacciata dal corso. Katie, il tuo primo incontro con l'italiano no, proprio, non hai imparato niente. E infatti quando si tratta di imparare le lingue a scuola, quindi a scuola e all'università, sono sempre stata una capra. Questa è interessante perché invece adesso c'è una scheggia un po' con le lingue. Quindi, perché? Un momento in cui è cambiato tutto e quando mi sono trasferita in Italia è... Il sole. Attenzione. L'acqua. Ho capito come si imparano le lingue. Cioè, invece di cercare di studiare l'italiano da un libro, che è quello che avevo passato gli ultimi due anni a cercare di fare, ho iniziato a provare a utilizzarlo per parlare con le persone. Infatti mi sono dato una regola, mi sono detta che non potevo avere amici con i quali parlavo in inglese. È stata utile. È stata molto utile e all'inizio è stata anche... Un po' difficile. Una tragedia. Eh, immagino. Non parlavo bene l'italiano, quindi ero un peso praticamente per tutti, perché dovevano aspettare un sacco. Ho insistito moltissimo e dopo tre, quattro mesi riuscivo a parlare l'italiano in modo da non essere più un peso, diciamo. Facevo ancora tanti errori, però riuscivo a comunicare, ad avere delle conversazioni. È un po' come ho parlato in inglese. Sì, esatto. Non sui libri, ma al pub. Giocando. Io. Quando ci siamo trasferiti in Inghilterra, infatti, non parlavo benissimo l'inglese. E quindi ogni martedì andavo in un pub dove organizzavano giochi da tavolo e giocavo. Quindi, con la scusa del gioco, è semplice perché poi da lì si parla di qualcosa, si dicono delle paroline, puoi anche stare zitto un poco. Per questo possono funzionare molto bene gli scambi linguistici, secondo me. Sì. Perché vai... oppure a un tutor. Portate il vostro tutor al pub e potete provare a parlare l'italiano. Sarete più felici voi e il vostro tutor. Sì. E quindi il primo consiglio è di imparare facendo. Le lingue non sono come una materia scolastica in cui bisogna memorizzare un sacco di informazioni. In realtà, impari meglio quando cerchi di applicare subito queste informazioni. È un po' come pensare che tu possa imparare a suonare la chitarra leggendo un libro. Certo, imparare a leggere la musica ti può aiutare come sostegno. Però per imparare a suonare la chitarra bisogna... Suonarla. Sì. Tanto. Sì. Tanto. Superare quella fase in cui ti fanno malissimo le dita. Non puoi saltare questa fase. Non è possibile. Ci sarà una fase molto lunga in cui direte una parola e poi dovrete pensare alla prossima e poi la prossima. Sarà un po' doloroso ma è una parte completamente naturale dell'apprendimento delle lingue. Poi passa. Sì. E ricorderete di questa fase come a dire... Ah, ti ricordi quando non riuscivo a dire nemmeno una parola in italiano? Eh. Da qui ci leghiamo subito al secondo consiglio. Bisogna essere molto tenaci. Più siete tenaci, più andate lì e ci sbattete la testa, meno tempo ci vorrà e più sarete soddisfatti dei vostri progressi. Ovviamente a un certo punto capita di dire non ce la faccio più, pausa. Nonostante abbia Katie che impara da tanto il cinese e io dentro voglio imparare un po' il cinese, puntualmente dopo una settimana lo lascio. E quindi sono ancora la prima settimana da anni, più o meno. Sì, spesso si pensa che è importante il talento, la memoria, eccetera, per imparare una lingua, ma invece no. Chi è tenace, impara. Il terzo consiglio è di coinvolgere le persone con cui parli nel tuo percorso. Spesso si pensa che quando si impara una lingua si passa prima molto tempo a studiare la lingua sui libri e poi dopo, quando sarai pronto, farai la tua performance con un madrelingua. Ma come abbiamo visto non funziona proprio così. All'inizio sarà un po' difficile ed è normale e tu non devi essere assolutamente perfetto, anzi puoi comunicare questo alla persona con cui parli. Per esempio, so che in questo momento non parlo molto bene l'italiano, ma vorrei imparare. Possiamo provare a parlare in italiano? Queste due parole, vorrei imparare, tolgono tantissimo la pressione e quindi migliorano incredibilmente il dialogo e anche la vostra prestazione in italiano. Perché stai mettendo le mani avanti dicendo guardate, io sono principiante, quindi farò errori, però dai proviamo insieme questa conversazione. Il quarto consiglio è legatissimo al terzo. Perché? Perché bisogna avere sempre un buon senso dell'umorismo. Sì, essere autoironici. Sì, tantissimo, perché poi non solo alleggerisce, come dicevamo prima, la situazione e quindi rende più facile per voi comunicare, ma rende tutto più divertente e tutto più facile e anche tutto più memorizzabile. Perché si ricordano le cose tipo, ah ti ricordi quando ho detto quella cosa strana? E piano piano entrano nei meccanismi altre nuove parole e nuove frasi. Sì, perché al contrario di quello che si pensa di solito, alla persona che hai davanti, non importa se tu parli perfettamente l'italiano o no, vuole comunicare con te e preferibilmente divertirsi. E quindi se tu riesci a ridere di te stesso, a ridere del tuo livello di italiano o tutte le cose che possono andare male in una conversazione, subito crei un legame con queste persone. Io per esempio all'inizio dicevo a tutti, sentite, so che parlo un po' come Borat adesso, abbiate pazienza. E ci sta, si iniziava con le risate e poi... E li ringraziavo sempre quando mi correggevano perché era un po' come se facendo queste cose non ero più io che faceva una performance, però lavorevamo insieme per migliorare il mio italiano. Ottimo lavoro, ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Quinto consiglio, non è quinto per importanza, siate sempre gentili con voi stessi perché state imparando l'italiano, state imparando una lingua, non è scontato che il vostro cervello impari tutto subito come voi volete. Piano piano, con calma, arriva tutto e meno vi arrabbiate con voi stessi perché non vi ricordate una parola o una forma verbale, più velocemente riuscirete ad arrivare ad un punto nel quale riuscirete a parlare. La felicità non è non fare errori, la felicità è riuscire a comunicare più o meno quello che volevate perché anche io e Katie continuiamo a fare errori. In italiano sì, io faccio ancora errori. Anche io faccio errori in italiano, ragazzi, e lo sapete benissimo tutti quanti. Quindi non è una questione di fare errori, ma è una questione di comunicare. Vogliatevi bene. Sì. Questo è un altro consiglio super importante perché se abbiamo imparato una cosa durante questa puntata è che a me e a Matteo non piace molto studiare le lingue. No, a me piace giocare da tavolo, videogame o quello che è e a Katie piace stare con le persone e condividere una serata con una buona birra. E guardare Netflix. E guardare Netflix. E queste sono le cose importanti. Bisogna coltivare i propri hobby nella lingua che state studiando. In italiano non c'è tanto materiale come quanto ce n'è in inglese, ma ormai ce n'è tantissimo. Da giochi a video, Netflix, film, serie, blog, podcast. Se ti piace la fotografia, qualsiasi cosa, troverai un blog in italiano. C'è tantissimo. Alla fine studiare l'italiano è come decifrare un codice. Se a te non importa quello che c'è dall'altro lato di questo codice, una volta decifrato, non avrai l'energia per metterci tutto questo sforzo che ci vuole per decifrare il codice. Mentre se scegli una cosa che ti piace moltissimo, potrebbe essere una serie, un blog, allora avrai molta più energia e pazienza per cercare di capire quello che stanno dicendo. Sì, e ti ricorderai di dire le cose perché sono cose che interessano a voi, non sono il gatto che è sul tavolo o la cavra sotto la panca, che sinceramente c'ha anche un po' scocciato. Pazienza, positività e tenacia sono tutte e tre parole molto importanti e tanta 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 pratica. Quindi vi lasciamo con una serie di numeri e parole. Speriamo che vi siano utili questi consigli e anche un po' l'esperienza di Chieti nell'imparare l'italiano. Quindi a questo punto vi chiediamo perché avete iniziato a imparare l'italiano? Perché sono curioso. Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao!